Buon anno a tutti dalla Val di Susa e dalla Val Sangone. E' inutile dire che il 2021, che è appena incominciato, è un anno carico di aspettative. La crisi sanitaria e la crisi economica che stiamo ancora attraversando hanno colpito molto duramente i nostri territori e hanno portato al pettine tutta una serie di nodi non ancora sciolti e sui quali dobbiamo lavorare in maniera molto intensa. Penso alla necessità di avere delle infrastrutture digitali degne di questo nome, all'importanza di investire sull'innovazione tecnologica, all'importanza di sostenere il mondo dell'industria, dell'impresa, del commercio, dell'artigianato, il mondo del turismo, alla necessità di investire e di riprogettare due settori pubblici molto importanti, quali il servizio sanitario territoriale e quali la scuola. Penso però che questa situazione così imprevedibile abbia anche aiutato a riscoprire alcuni valori, alcuni punti di forza dei nostri territori. Il senso di comunità, il senso di appartenenza, la solidarietà che si è sviluppata fra i cittadini. Abbiamo capito che nei territori che ogni tanto vengono descritti come periferici o marginali, in realtà c'è una qualità della vita molto alta e la bellezza di vivere in un luogo circondato da una natura incontaminata, è un valore che deve essere difeso e che deve essere anche sostenuto e promosso. Devo dire che abbiamo riscoperto la qualità dei nostri prodotti tipici locali, la bellezza delle nostre montagne, dei nostri sentieri, l'importanza di avere un commercio di vicinato solido, l'importanza di avere una viabilità che sia davvero funzionale, l'importanza della manutenzione del nostro territorio. Ecco, tutto questo credo che debba servirci come monito per il futuro e credo che debbano essere dei temi sui quali lavorare come territorio e come città metropolitana. Lo stiamo già facendo in questi mesi attraverso il piano strategico e attraverso il piano territoriale, due progetti che vedranno la luce nel 2021 e due progetti attraverso i quali stiamo cercando di disegnare la città metropolitana che verrà. Due progetti che guardano al futuro, un futuro che noi ci aspettiamo solido, che ci aspettiamo più sereno e che assolutamente vogliamo che sia in grado di lasciarci alle spalle tutti i mesi così complicati che abbiamo vissuto e che ci hanno segnato in maniera così profonda. Quindi buon anno dalla Valle di Susa, Bassa, Alta Olimpica e dalla Val Sangone. A presto!